Sapevi che in The Last of Us se teniamo in ostaggio qualcuno, questo se ne starà relativamente buono. Ma se tenteremo di fare fuoco e la pistola dovesse risultare scarica, egli se ne renderà subito conto e tenterà di sfuggire alla nostra presa. Certo che bisogna proprio essere dei polli per farsi lavori col caricatore vuoto.